Io sono veramente felicissimo e tutti noi del Bari di avervi così in tanti, siamo riusciti a far partire questo primo anno delle Academy, qualcosa che anche nella mia famiglia non è stato fatto da altre parti, io ci ritengo tantissimo perché è mia intenzione riempire questo territorio il più possibile con questo bellissimo sport, con il Bari che deve man mano crescere in nuove generazioni, questo è un nuovo corso, avete una responsabilità in mano importante perché sono tutte le nuove generazioni, noi abbiamo coniato SSC Bari Generation proprio perché speriamo di poter crescere nuove generazioni di grandi tifosi, di grandi sportivi e questo ci teniamo anche all'etica a partire dallo staff che lavora col Bari, a tutti i nostri tesserati, giocatori, a club manager, tutti devono avere una condotta importante perché ogni giorno possiamo dare un esempio a qualcuno.